...straordinarie, ricche di sentimenti e valori speciali, tutte accomunate da un momento. Il gol, 15 episodi che raccontano le vicende di uomini prima che calciatori. Il valore speciale di un gol è l'esordio di Renato Maisani, libreria, giornalista catanese, ma in trasferta a Milano. Sì, è un piacere presentarlo nella città dove sono nato e ho vissuto per tanti anni, che ho dovuto lasciare per motivi di lavoro. Però è sempre bello tornare, soprattutto ritrovare tutti gli amici e vedere colleghi e amici che sono felici per questo traguardo raggiunto. Perché poi in realtà, al di là di ogni risultato di vendita, di incasso e tutto, la cosa più bella per me oggi è parlarne e sentire i miei amici, i miei colleghi felici di questo obiettivo, di questo traguardo. Questo libro è stato un parto, perché l'idea nasce tanti anni fa, ci ho lavorato nell'ultimo anno, però è andato a compimento e sto avendo tante soddisfazioni. Spieghiamo anche di cosa parla il libro, sono una serie di storie che raccontano di gol, di gol emozionanti, di gol storici, di gol belli. Sì, per me è stato un piacere riuscire, o perlomeno provarci, a raccontare le emozioni che un gol riesce a regalare in un calcio che adesso sembra essere soltanto una valvola di sfogo di un paese, ma poi è diventato magari troppo attento ai soldi, alle tensioni, agli scandali. È bello invece vedere come anche i calciatori, persone che molto spesso vengono accusate, tra virgolette, di essere dei milionari, dei mercenari, però in realtà hanno dietro delle storie personali di vita che li rendono umani, perché prima di essere degli atleti sono degli uomini, sono dei padri, che in alcuni casi, che racconta anche nel libro, hanno dovuto giocare a calcio, e magari sentirsi fischiati nel momento in cui in famiglia c'erano dei problemi più grossi. Noi a volte pensiamo che loro non abbiano problemi, ma ce li hanno anche loro. Ed è anche dal lato del tifoso bello ricordare, mi è piaciuto ricordare anche da tifoso, delle emozioni che dei gol hanno dato a una città, come ad esempio il gol di Rossini che salvò il Catania. Eh, infatti, proprio questo ti volevo chiedere. C'è anche il gol di Rossini, il gol famoso della salvezza, insomma, molti ricorderanno, molti tifosi rossazzurri. Sì, non potevo escludere la ricerca dei 15 gol più emozionanti degli ultimi 50 anni di calcio, quello che per me ovviamente è un ricordo speciale, il gol di Rossini che salvò il Catania. Ce ne sono stati tanti gol importanti qui a Catania, ma credo che il gol di Rossini fu quello più liberatorio, perché salvò il Catania nell'anno del famoso 2 febbraio, quando sembrava davvero che tutti ci avessero messo i mezzi per rimandare il Catania in B. Parlo delle istituzioni, parlo anche di qualche calciatore che nel momento clou si era perso, invece nel momento più difficile, in campo neutro, quel gol di Rossini nel momento più difficile salvò il Catania e per me, se vuoi, a quel Catania di scrivere sette anni di storia, perché è mai partito tutto da lì. Reato da giornalista catanese in Milano, naturalmente segui sempre il Catania, lo segui per lavoro, per passione, insomma, cosa ti auguri per il futuro? Sto vedendo, l'anno scorso è stato un anno di transizione, perché ci si aspettava una Serie B più facile, ci si aspettava sicuramente una situazione diversa anche a livello ambientale, la gente sembrava aver perdonato la retrocessione, ma si aspettava subito la ripartenza. Le difficoltà iniziali hanno comportato poi qualche errore della società, hanno comportato la fine della pazienza dei tifosi, è stata una catena. Adesso si ricomincia, secondo me, il Catania come società, come struttura, come tifoseria, ha tutto per tornare in Serie A direttamente, senza passare dai play-off. Adesso siamo solo all'inizio della campagna acquisti, del nuovo allenatore, però credo che davvero il Catania ha tutte le carte in regola per tornare direttamente in Serie A. E allora ricordiamo il valore speciale di un gol, Renato Maisani, in tutte le librerie, in bocca al lupo. Grazie. A presto.